Un'altra buona notizia per il comune di Baveno dai fondi del PNR, infatti è arrivato un finanziamento di quasi un milione di euro, più di 900 mila per la realizzazione, anzi il completamento del collegamento ciclopedunare tra Ferriolo e Baveno. Una gran bella notizia. Direi una super notizia. Colleghiamo con questo pezzo quasi il centro di Baveno con Verbagna praticamente. Siamo felici, abbiamo lavorato tanto nell'ultimo anno su tanti progetti e oggi portiamo a casa i risultati di tanto lavoro, tanta visione della città che vogliamo e quindi siamo soddisfatti e contenti. 900 mila euro arriveranno tramite il PNR, l'altra parte, circa 200 mila euro, saranno messi dal comune di Baveno. Sì, 299 mila euro li metteremo noi con i nostri fondi e poi subito dopo questo progetto lavoreremo per continuare, per arrivare proprio in centro e con quello chiuderemo l'anello con Verbagna. Eseguzione, cronoprogramma, Sindaco? Ci stiamo lavorando nel senso che abbiamo fatto questo progetto un anno fa, abbiamo caricato un bando a settembre scorso mi sembra e oggi entriamo nel concreto. Arrivano i fondi, quindi conteremo i progettisti in settimana e con loro faremo tutto quello che è lo sviluppo del vero progetto, tempi, modi e tutto quello che serve. Una buona notizia, insomma, Baveno ha avuto già diversi fondi, tanti fondi nell'ambito del PNR. In Baveno ne ha ricevuti tanti, circa quasi 4 milioni, scafio di riposo, asilo, palestra, la parte energetica dell'asilo, insomma, e oggi questo. E magari arriveranno anche altri, lo speriamo. Più fortunati o più bravi siete? No, la fortuna non esiste, esiste il lavoro, siamo concentrati su alcuni progetti che avevamo immaginato come lo sviluppo della città. Oggi i risultati arrivano, quindi complimenti a noi che ci abbiamo creduto, ma complimenti agli uffici, sempre performanti, sempre sul pezzo, quindi una bella squadra.